Il piano ospedaliero coronavirus della regione Puglia è pronto. Si è smontato e rimontata tutta l'organizzazione ospedaliera dividendo e isolando strutture dedicate a covid da quelle non covid che devono comunque continuare ad assistere tante persone. Ogni struttura covid tiene insieme i reparti di infettivi e pneumologia con le sale di rianimazione così in caso di bisogno il trasporto è rapido. Questo sistema è presente su tutto il territorio pugliese. Lo ha detto il presidente della regione Puglia Emiliano presentando il piano ospedaliero coronavirus della regione Puglia. Tra questi ospedali c'è stata anche la candidatura di quello di Manfredonia portata avanti dal vicepresidente regionale Gatta che ai nostri microfoni ha dichiarato tutto il suo rammarico per non aver visto il San Camillo dell'Elis all'interno di questo piano. Io ritengo che sia l'ennesimo schiaffo perpetrato ai danni di un'intera comunità e anche delle eccellenze presenti presso l'ospedale di Manfredonia che non è solo l'ospedale di Manfredonia è l'ospedale di un'intera collettività che abbraccia i comuni di Zapponeta, Mattinata, Monte Sant'Angelo e che arriva fino a Vieste e che sarebbe stato un ottimo ospedale e per le professionalità IVI esistenti che per la presenza di sale che avrebbero potuto essere perfettamente destinate ad unità di terapia intensiva o semi-intensiva. Nel corso di un incontro che abbiamo avuto e di un sopralluogo che abbiamo avuto proprio con il direttore generale e con il direttore sanitario vi era stata una disponibilità di massima ad acconsentire a che quelle sale che sono presenti nel reparto di ginecologia sostanzialmente posta tra il pronto soccorso e tra la chirurgia e che avrebbero potuto essere perfettamente destinate ad unità di terapia intensiva o comunque almeno di semi-intensiva a fronte di questa disponibilità di massima. Oggi è arrivata la notizia, una doccia fredda per cui l'ospedale di Manfredonia viene sostanzialmente lasciato così com'è, diventa un ospedale no anti-covid perché questa suddivisione tra ospedali anti-covid e ospedali no anti-covid, Manfredonia evidentemente per delle scelte che sanno più di sapore politico che di natura tecnica, non è stato, ripeto, ha avuto questa ennesima mortificazione, che non è una mortificazione data solo all'ospedale, ma è una chance in meno data ad un'intera collettività che aveva bisogno di vedere in questo ospedale un punto di riferimento qualora gli ospedali maggiori come Casa Sollievo e gli ospedali riuniti di Foggia fossero congestionati, perché a sentire ciò che disgraziatamente si legge il picco dovrà ancora venire e molti sono comprensibilmente terrorizzati rispetto a ciò che potrebbe accadere. Io credo che il Presidente Emiliano, ma non solo, e anche i suoi rappresentanti in seno alla sua maggioranza di governo abbiano perso una grandissima occasione, perché era l'occasione anche di dare un senso e un significato all'esistenza in vita dell'ospedale di Manfredonia, avrebbe potuto qualificare l'offerta sanitaria di questo ospedale, che, ripeto, le ha le sale, sono pronte, sarebbero bastate soltanto alcune opere infrastrutturali di cui si era discusso in occasione del sopralluogo che ha avuto il Direttore Generale presso questo ospedale, ma evidentemente ancora una volta qualcuno ha remato contro. Questa è la storia, non mi resta che essere sicuramente dispiaciuto di questa occasione persa, dispiaciuto perché rappresento le sensibilità di tantissimi appartenenti a questa comunità cittadina e non solo cittadina, ma nello stesso tempo questo non mi distoglierà dal continuare questa battaglia, perché l'ospedale di Manfredonia abbia il ruolo che si merita per le eccellenze professionali che all'interno vi lavorano, per le strutture che comunque ha e anche perché la gente ripone fiducia in questo ospedale che diversamente sarebbe poco più di una cattedrale nel deserto. E questo non può e non deve essere, soprattutto in un momento drammatico come questo.